Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6, giornata stabile. E' questo mercoledì, primo giugno, inizio dell'estate meteorologica. Sarà un avvio estivo decisamente caldo da nord a sud, avremo però qualche nota instabile sul settentrione, specie sull'arco alpino e al nord ovest, un po' di addensamenti, qualche scroscio di pioggia, ma davvero poca roba, prebara il bel tempo sul resto d'Italia, specie al sud. In Abruzzo si rispetta un primo giugno complessivamente sereno ovunque, quindi una giornata pienamente estiva, qualche densamento isolato nell'area interna, ridosso dei monti. Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 28 gradi, nei valori massimi, minima è stazionare tra 11 e 17 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.